Il corpo sbrindellato del caos e dalle comete dell'illusione, la mente scaduta nel tempo si è rotta nei calvari della vita. Mi getterò fuori dalla trincea, nell'enormità del mistero. La scrittura andrà verso l'infermità e la frantumazione. Troppo sente il rischio di essere incompresa e ingoiata, velocemente come una medicina amara da digerire. La vecchiaia lavora per ferire la voce a colpi di taglierino. Sparirò in questo graduale annientamento in un buio di verità e silenzio. La grazia polverizzerà quel che resta della mia umanità contaminata, cenere inconsistente, convinta di non valere a sparire da un mondo in festa.